Eccellenza! Eccellenza, anzitutto grazie di aver accettato il nostro invito, grazie davvero. Grazie da voi per dare questa possibilità di parlare per il Kosovo, i nostri problemi, le nostre opportunità, la nostra relazione con Italia che è molto importante. Parliamo proprio della comunità dei kossovari in Italia, i kossovari in Italia sono circa 40.000, la maggior parte radicati al nord, se non erro, Veneto e Lombardia sono le regioni dove se ne trovano di più. Insomma, come si è integrata questa comunità con quella italiana? Sì, è vero, ci sono circa 40.000 cittadini del Kosovo che hanno venuto dopo la guerra, ci sono trovati molto bene, lavorano, ci sono integrati nella società italiana, sono cittadini che rispettano questa cultura, questo paese, ringraziano, perché ho incontrato alcuni di loro, tantissimo il vostro paese che è stato molto generoso anche con loro. Lo sappiamo che l'Italia è un paese molto generoso per tantissimi paesi che hanno difficoltà nell'economia o ci sono paesi non sviluppati e poi Kosovo ha avuto un passato molto difficile durante l'occupazione di Serbia e la diaspora è stata molto molto importante, è proprio il lavoro di diaspora nel paese come Italia o anche i paesi dell'Europa che ha fatto, che con il lavoro che hanno fatto abbiamo uscire di sopravvivere di questo regime, così noi apprezziamo tantissimi paesi che lo supportano, la diaspora e anche l'Italia è tra questi paesi generosi. Quindi eccellenza possiamo dire che l'Italia si distingue per l'accoglienza in ambito europeo per quanto fa? Italia, ho detto, è tra i paesi più generosi riguardo i migranti che vengono ogni giorno. Vediamo nella televisione che da tutto il mondo, specialmente il continente africano, vengono rifugiati, non vengono perché hanno una situazione buona nei loro paesi, però hanno tantissimi problemi e l'Italia è sempre lì per salvare, perché la loro strada che seguono è per la vita o per la morte, come lo vediamo così, nel mare l'Italia è sempre un paese che aiuta questa gente. Kosovo non è in questa situazione ora, Kosovo è meglio, è stato durante la guerra, ma ora è meglio, e questi cittadini che hanno venuto vengono perché Italia è tra questi paesi che si vedono come un modello perfetto e generoso per lavorare, per avere una vita migliore. Secondo lei a livello internazionale viviamo questa crisi difficilissima, per cui stiamo parlando dei migranti, sappiamo la situazione attuale qual è, ma c'è un modo per governare meglio i flussi, secondo lei, oppure ormai è totalmente fuori controllo il flusso dei migranti? Io rappresento un paese piccolo che, come ho detto, non ha questo grande ruolo per questi flussi di migranti, però noi abbiamo sofferto, capiremo la storia, questi emigranti non vengono perché hanno una, come ho detto, una buona situazione, vengono perché è la guerra, scavano la guerra, difficoltà economiche, però ci sono politiche che i leader di Europa possono fare insieme per dare una risposta a questo fenomeno che è molto difficile, perché Europa è molto generosa con questi paesi, aiuta, però è anche difficile di accettare tutti, ma io penso personalmente che l'aiuto deve andare da Europa in questi paesi, per aiutare che i governi, i stati di questi paesi che produrano questi rifugiati, di migliorare la vita, di essere meno corruttati, perché vedo che questo problema è grande in questi paesi, e poi hanno bisogno per donazioni, che ci sono anche ora, però hanno bisogno più di sviluppo, forse donazioni non bastano per sviluppare questi paesi. Assolutamente. Ambasciatrice, parliamo anche un po' di lei, lei è a Roma da poco, si è insediata a novembre 2016, quali sono le sue prime impressioni sull'Italia? Impressioni sull'Italia sempre molto buone, Italia è tra questi paesi molto importanti, per il Kosovo, ma è anche un paese che conosciamo la cultura, è sempre molto generoso, anche io mi sento come nella mia casa, perché abbiamo tantissime cose in comune, e poi il mio dovere come ambasciatore in questo paese, che è molto amichevole per il Kosovo e gli albanesi, e poi l'Italia è molto presente anche nel Kosovo, in tantissimi settori possiamo dire, specialmente per la sicurezza, perché l'Italia rappresenta ora il contingente più grande dei corpi di Keifor, che si prendono cura per la sicurezza dei confini del Kosovo, così abbiamo relazioni perfette, anche diplomatici, politici, anche in economia, però in economia dobbiamo lavorare un po' di più, siamo fortunati che siamo vicini geograficamente, così ci sono tantissime opportunità che io penso che non ci sono esplorati abbastanza. C'è un aneddoto che le fa piacere ricordare in questa intervista della sua esperienza in Italia, un incontro che le è capitato, qualche frase che le è stata detta, non so, un aneddoto? Non so se posso dire che è un'aneddota, però Italia è famosa per il caffè, per il macchiato, però io in tantissimi caffè, quando ho venuto stavo a cercare per trovare il caffè, il macchiato che mi piace, perché è un po' diverso, un giorno era con i miei colleghi, ho detto, e senti, alle camariere, senti, lo sappiamo che Italia ha inventato il macchiato, però è in Kosovo, in Kosovo lo sai che fa il macchiato più buono nel mondo, secondo Yahoo, e lui mi ha visto così, perché è stato un articolo nell'Yahoo che il Kosovo ha il macchiato più buono nel mondo, non so se sapete, però ho trovato anche qui il macchiato che mi piace, come si chiama, che è uguale con Kosovo. Generalmente comunque si mangia bene in Italia, caffè a parte. In Italia, sì, sì, perfetto. Allora, ambasciatrice, lei da parlamentare nel suo paese si è battuta molto per i diritti delle donne, però anche dei giornalisti, è una mia collega. Sì, sì, perché è stata una cosa normale, perché io in politica ci sono entrata dopo essere giornalista, così conosceva bene le cose della media, del giornalismo, ho lottato abbastanza per la libertà della media, ho preparato un legge, che infatti io sono la prima diputata che ho proposto, ho fatto una legge, e questa legge era per la protezione di fonti di giornalismo, che è Kosovo. Un tema attuale anche in Italia questo. Ora seguirò, perché se vuoi possiamo portare il modello del Kosovo, perché non sempre noi dobbiamo prendere i vostri modelli, ma il Kosovo ha un perfetto legge, che dà una protezione quasi assoluta per i giornalisti, per i fonti anonimi di giornalisti. E poi certo per le donne, perché sono una donna, una femminista, e sempre nelle nostre società, quando è dappertutto, anche in Europa, dobbiamo lottare per essere uguali nei nostri diritti. Kosovo ha una Costituzione, i leghi perfetti per le donne, però qualche volta non viene rispettato, così dobbiamo cambiare la società. Non basta cambiare i leghi, però tra i leghi dobbiamo cambiare anche la società, e la mentalità, per questo ci serve sempre un'energia per lavorare, per spiegare, specialmente spiegare quegli uomini che fanno la politica, che è importante per questo. e poi quella che abbiamo ottenuto è che i uomini nei partiti politici, nella politica, hanno accettato se loro non lavorano per le donne, le vote delle donne non votano più per loro. Ho capito. Questa è stata una cosa che per noi è molto importante come donne nel Parlamento, e pensiamo che abbiamo fatto un buon lavoro in questo. Sono ben rappresentate le donne nel Parlamento? Nel Parlamento sì, ci sono 30%, perché abbiamo la quota, e poi sempre da un anno, dall'elezione in un altro, abbiamo cresciuto il numero, e poi anche nelle assemblee dei municipi ci sono queste quote, però è molto importante che queste quote hanno prodotto sempre le donne più qualitative e più numerose nella politica. Quanto è stato difficile invece fare la giornalista in un paese in guerra? Infatti, io ho andato in Kosovo dopo la guerra, e non sono una giornalista della guerra, che lo so che è una cosa molto difficile, però ho seguito il processo dopo la guerra, fino all'indipendenza come giornalista, che ha avuto anche abbastanza conflitti etnici, problemi politici, così è stata un'esperienza straordinaria come giornalista, perché ho vissuto anche momenti storici come l'indipendenza, insieme a lavorare ho anche vissuto questa, è poi un'esperienza straordinaria per essere parte di questo processo, nel senso come giornalista distanza, però lo sai che i giornalisti hanno anche la loro influenza nei processi, con le domande difficili, per quello che... Quindi lei sostanzialmente ha fatto opinioni a tal punto, poi è diventata un volto noto, e poi interessante storie dappertutto, e poi specialmente i rapporti con i serbi, che è una storia lunga, che vengo da secoli, ma per riportare in due minuti o in trenta minuti, in qualche documentario, ti serve sapere, anche conoscere dal dentro la storia, il paese, i personaggi, tutto. Così per condensare è stato necessario di avere tantissimi occhi. Assolutamente. Ma quali sono le città assolutamente da vedere del Kosovo? Come itinerario turistico? Sì, certo è Prisren, è una città interessante, multiculturale, con un fiume durante l'estate, è molto bello, specialmente la notte, e poi ci sono le gente molto amichevoli, e Peia, per i giornalisti è sempre importante, o sempre interessante in Mitrovica, perché ha questi problemi politici, così per i giornalisti, e poi certo il capitale, Pristina, è una città normale come tutti gli altri, però ci sono anche queste dimensioni della libertà, e di quelli che hanno contribuito nella libertà, vedrai il statue di Bill Clinton, per esempio, che non vedrai mai, forse in un altro paese, e poi tantissimi segni di ringraziamento di paesi europei e America che hanno aiutato Kosovo per vincere la libertà. Qualche giorno fa a Roma si è tenuto un incontro con gli imprenditori, c'era il sottosegretario Scalfarotto che ha detto l'Italia oggi guarda con estremo interesse lo sviluppo del Kosovo e le imprese italiane strizzano l'occhio al Kosovo. Voi registrate questo interesse delle aziende italiane a venire in Kosovo? Assolutamente sì, e siamo molto contenti per questa parola che ha detto lui, perché anche noi siamo tantissimi interessati per crescere i rapporti economici tra Italia e Kosovo, e proprio per questo abbiamo organizzato questo forum che come hai visto è stato pieno di imprenditori che vuol dire che l'interesse è lì. Così ora rimane di fare i progetti, di seguire questo interesse. Kosovo ha tantissime cose per, come ho detto è una terra, un paese non esplorato abbastanza, perché c'è questa immagine di guerra che dobbiamo togliere, perché la guerra ha finito 15 anni fa e Kosovo ora è un paese completamente normale. Ho qualche problema politico, come tutti i paesi. Non esiste un problema di sicurezza, questo chiariamolo perché era una domanda che è stata fatta. Infatti Kosovo è il paese più sicuro nel mondo perché è nato che protegge il Kosovo, così non esiste questo problema di sicurezza. Anche la sicurezza economica, perché abbiamo i corti, i tribunali che funzionano, forse non siamo tantissimi contenti perché devono essere un po' più veloci, però funzionano. c'è giustizia. E poi ci sono tantissimi field, campi dove ci può lavorare, per questo imprenditori c'è agroalimentare, ci sono miniere, energia, e poi tecnologia dell'informazione. Kosovo è il paese. Sì, ma in effetti ambasciatrice, parlando con gli imprenditori che erano noi, anche io ero lì quel giorno, sono incuriositi dal fatto che c'è soprattutto una manodopera giovane nel Kosovo, come paese molto giovane, e risorse naturali. Non conoscevano molto la fiscalità del vostro paese invece. Anche la fiscalità dà tantissime possibilità. Ultimamente il Parlamento ha approvato la legge per investimenti strategici, che vuol dire che imprenditori che hanno interessi di investire in Kosovo hanno tantissime possibilità di non entrare nelle procedure che è normale, ma se ci sono investitori strategici possono parlare con il governo e poi possono continuare. E poi la gioventù, come anche ho detto in questo forum, che sì, abbiamo i ragazzi giovani che sono molto interessati per lavorare, più di metà della popolazione è giovane, abbiamo tantissimi che hanno studiato anche fuori e che ci sono ritornati in Kosovo per lavorare, e poi Kosovo è il paese che usa internet, per esempio è il numero uno nell'Europa, più di 66% usano internet, così tecnologicamente è molto avanzato. Abbiamo tantissimi ragazzi che hanno capacità per essere, per questa tecnologia di ingegneria, informatica, sì, sì, tanto. Invece, ambasciatrice, dal punto di vista religioso, Kosovo è un paese a maggioranza islamica, c'è un processo di integrazione, dialogano le religioni tra di loro in Kosovo? Kosovo non ha avuto mai problemi di religione, c'è stata sempre la convivenza tra le religioni, la maggiorità è muslimana, però ci sono anche i cattolici, e poi i serbi e ci sono ortodossi. Noi non abbiamo mai avuto il problema di integrazione tra le religioni, in contrario, Kosovo e Albania ci sono due paesi che servono come esempi, come le religioni vivono insieme. Questo ha detto anche il Papa nella visita l'anno scorso in Albania, ha detto in tantissimi forum che questo è l'esempio che deve essere seguito dagli altri paesi. Poi noi siamo un paese laico, anche la nostra Costituzione, così la religione è una cosa completamente privata, così è importante per gli individui, però il Stato è laico, è secolare, così abbiamo la Costituzione, rispettiamo tutte le religioni, però il Stato è il Stato. Guardiamo adesso in casa Stati Uniti, cosa pensa del Presidente Trump che si è appena insediato? Presidente Trump è il Presidente di un paese molto importante per noi, per tutto il mondo, ma specialmente per noi. Noi rispettiamo la volontà del popolo americano per scegliere i loro rappresentanti dello Stato e speriamo che lui, penso che sarà così, continuerà la politica di supporto del Kosovo come nel passato. Abbiamo tantissime garanzie che la situazione sarà così. Stati Uniti hanno supporto, liberazione del Kosovo, l'indipendenza del Kosovo insieme a alcuni paesi europei come Italia, Francia, Britannia e Germania. E speriamo e speriamo, pensiamo che questa coalizione, che è una coalizione della libertà, dell'umanismo e dei principi, che ha aiutato la liberazione del Kosovo, continuerà. C'è Lenzo all'ultima domanda, gliela faccio proprio sull'Italia. Gli annosi, i problemi di stabilità politica. Noi cambiamo governo in continuazione. Lei come dialoga con la politica italiana e che idea si è fatta della politica italiana? Lo so, questo problema, se possiamo dire così, però il sistema è molto forte. I politici cambiano, i governi cambiano, però il sistema che fa funzionare un Stato è molto forte qui. Non dipende l'administrazione tanto dalla politica, è proprio l'administrazione che fa un paese forte o no. Così l'Italia è molto stabilizzata, nel quel senso, anche se cambiano alcune gente nella politica, il Stato continua la strada. Poi non ho visto che ha cambiato la politica esterna, è una cosa che ho visto che ci sono quasi tutti nella stessa linea. Noi siamo interessati specialmente per i rapporti con Kosovo, ma anche con l'Unione Europea. Vediamo l'Italia come un paese leader in Unione Europea, perché noi siamo moltissimi interessati di entrare. Lo vediamo come il modello più buono nel mondo per essere per un Stato, anche per salvare i problemi che abbiamo con i vicini, per esempio con la Serbia, perché anche la Serbia vuole entrare nell'Unione Europea. e ci sono queste condizioni che preparano un Stato per entrare. E una tra queste condizioni è i buoni rapporti con i vicini. E noi speriamo che questa strada cambierà il modo che Serbia si comporta con il Kosovo. Crea problemi, certo non come nel passato, ma anche problemi che prendono l'energia del nostro governo. ci sono piccoli problemi, però sempre è un'energia che ci spende per cose che forse dovrebbero essere come sviluppare il nostro paese, cose più positive che quelle dei problemi con la Serbia. Basciatrice, noi la ringraziamo della sua cortese disponibilità e per questa intervista e le auguriamo una buona permanenza a Roma. Io le ringrazio davvero e spero che continueremo questa cooperazione con la vostra rete e la vostra televisione che è molto importante anche qui in Italia. Grazie. 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 Grazie.